Buona giornata cari telespettatori, oggi siamo supportati da Confcommercio Venezia quindi vi presento subito i nostri ospiti, temi molto caldi soprattutto è importante che i cittadini siano costantemente informati di che cosa avviene e sensibilizzati su certe azioni che vengono intraprese zitti e fermi e buoni non stanno di sicuro e allora, ben ritornato Ennio Gallo, vicepresidente Confcommercio Venezia e Francesco Antonic, vice direttore abbiamo visto, ci hanno fatto intravedere in qualche flash la manifestazione senza eccedere di Roma è stata comunque una manifestazione significativa, importante poi però i media nazionali non hanno più parlato sembra che la cosa sia quietata e quindi come spesso succede come hanno fatto osservazioni i giorni scorsi anche i nostri telespettatori a nulla serve, non sortiscono effetti questo defatiga gli animi, cioè gli esacerba sotto certi profili ma anche li demotiva sotto altri quindi partiamo con lei vicepresidente ci racconti un po' il post manifestazione e anche poi con questo nuovo governo quali sono le aspettative quindi avremo insomma da parlare abbastanza poi andiamo più sul tecnico col direttore allora sicuramente è stata una manifestazione importantissima vissuta e partecipata abbiamo visto gente che ha abbandonato la loro attività che non è poca cosa in sto periodo che non è poca cosa gente che non è mai stata abituata a protestare che ha subito negli anni diciamo le angherie a volte dello Stato la vessazione di una burocrazia ottusa e vederle in un momento liberatorio come è stata la manifestazione di Roma del 18 è stata una cosa che ha riempito il cuore queste aziende stanche prostrate da una crisi che dura ormai da sei anni che non vedono un ballume di speranza con un pil in calo con una politica ferma ingessata a difendere privilegi e a difendere se stessa la casta però c'era anche la speranza c'era anche la speranza di far capire al mondo politico che non ne possiamo più ecco racconti ai nostri telespettatori che cosa è avvenuto quindi un po' ripercorrere quei momenti che tipo se c'è stata un'apertura di dialogo avete potuto interagire che reazioni ci sono state come cercare di descrivere in modo da rendere partecipi tutti beh allora io posso descrivere il nostro viaggio in treno da Mestre che ci ha portato a Roma dove lì c'erano commercianti, artigiani e piccoli imprenditori da tutta Italia da tutta Italia perché non era solo dal Veneto assolutamente parlando con la forza dell'Oriano non abbiamo mai visto la piazza così veramente piena ma piena di gente non che urlava non che aveva voglia di creare disastri o creare difficoltà che veniva lì in maniera cosciente a denunciare il problema del mondo dell'impresa il problema di una pubblica amministrazione che è sorta da anni ormai da decenni va bene se non si può da 30-40 anni che è sorda a quelle che sono le istanze del mondo dell'impresa e che diceva questo abbiamo bisogno di una politica che faccia le cose basta spot basta annunci dateci fatti concreti questo era il messaggio è gente non più rassegnata questo era diciamo così ciò che si percepiva la gente che dice adesso abbiamo trovato un momento di orgoglio l'orgoglio di chi fa impresa l'orgoglio di chi si alza al mattina e deve contare sulle proprie braccia sulla propria creatività sulla propria modo di essere per fare impresa che nonostante le vessazioni che ci fa lo Stato riesce a sopravvivere ecco e c'era questo orgoglio di coscienza ma c'era anche la frustrazione di non avere di fronte a noi un interlocutore con il quale intavolare un ragionamento infatti perché ho visto delle immagini eccetera voi prendevate il palco voi diciamo un po' in generale per sottolineare alcuni aspetti alcuni punti ma l'interfaccia chi era chi è stato non c'è l'interfaccia in quel momento non c'era il governo c'era un Renzi che dice di voler fare delle cose che sono sicuramente condivisibili che lo chiameremo la prova di fatti perché basta spot basta annunci adesso come dice Renzi è il momento del fare ecco se anche Renzi dovesse fallire o non mantenere una buona parte delle promesse che ha fatto io non lo so cosa succederà in Italia perché veramente questa manifestazione ha creato una coscienza ha creato una forza che noi piccoli commercianti piccoli artigiani piccoli imprenditori dall'industria al mondo del commercio va bene abbiamo ricevuto in quel momento quindi una forza e una spinta e purtroppo dico purtroppo ma forse anche perché forse è un'ultima speranza si parla più spesso sempre più spesso una volta come battute oggi con più convinzione di come si dice non che fiscalmente insomma praticamente di disobbedienza fiscale questo è un tema che si sta facendo con forza largo all'interno delle nostre associazioni infatti questo voglio anche riaffrontarlo come tema perché abbiamo visto anche in media nazionali diversi non slogan ma azioni intraprese proprio dalle categorie in altre regioni d'Italia tra l'altro nel nord Italia in Piemonte ci sono gruppi ma anche in altre parti dove naturalmente le pampano a pagare le tasse e vediamo cosa si potrebbe anche rischiare oppure se questo è vero se voi avete notizie in questo senso c'è una telefonata pronto signora Elena buongiorno a lei e agli ospiti buongiorno questa mattina di buon'ora ho visto una replica degli ospiti che aveva ieri perché io non ero a casa ieri a quest'ora e voglio dirle e voglio ringraziarle perché mi ha dato un'idea per il voto per Padova per le prossime elezioni c'era uno dei due personaggi dei suoi ospiti e probabilmente voterò per uno dei due quando andrò a votare per le elezioni del sindaco di Padova ma ce ne sono anche altri comunque questo è stato un po' mi raccomando che non era un'intenzione era un'occasione per ci saranno altre lei fa bene a precisare questo è un discorso che parte unicamente da me è univo con il discorso e voglio dirle che lei mi ha dato un'idea ma lei non me la voleva dare c'erano due degli ospiti io ne ho scelto uno e sono convinto che non cambierò ma comunque lei non senta che è un discorso ha fatto bene naturalmente per la prisione ecco per quanto riguarda i commercianti che manifestano il titolo della trasmissione senta io sabato ho preso la decisione di andare a partecipare alla manifestazione del movimento il 9 di dicembre e celebrava i suicidi che ci hanno stati in ambiti in vari settori produttivi commerciali e quant'altro e quello che mi ha lasciato basito è stata l'assenza totale di sensibilità e di gente da parte dei cittadini di Pado dei cosiddetti dei cittadini di Pado allora io sono convinto che i commercianti abbiano già manifestato e facciano bene a manifestare perché il commercio come tutti noi siamo sotto tiro micidiale vorrei dire quasi criminale se mi passa il termine però voglio dire non ho visto loro cioè io non è che aderissi a qualche movimento particolare mi sono sentito in obbligo di andare perché la gente si ammazza avremo i commercianti che si ammazzano abbiamo i commercianti che se per caso uno si ribella a un'aggressione e spara un colpo si prende 7 anni di galera e 150 mila euro da dare alla famiglia di un criminale voglio dire signora Paola però questa gente non può partecipare soltanto secondo me ai loro problemi deve estendere l'ambito della propria sensibilità perché altrimenti non andiamo da nessuna parte e questa io la trovo una carenza gravissima non importa se manifestano i piccoli industriali gli artigiani no si deve andare assieme io non faccio parte di queste categorie però mi sono sentito in obbligo perché c'è stata gente che si è suicidata dopodiché l'Equitalia che aveva mandato una cartella da 60 mila euro a quello che si era ucciso o che l'hanno ucciso ha mandato la cartella due mesi dopo alla moglie capisce cioè ci vuole una coerenza che vada sopra gli interessi della singola categoria perché signora Elena non andiamo da nessuna parte e allora queste trasmissioni rischiano di diventare inutili se sono fini a se stesse perché sono racchiuse nel proprio strettissimo ambito quel 60% degli italiani che non va a votare perché tanti siamo questi si devono coagulare e siccome i commercianti sono sotto tiro come sono sotto tiro io che sono pensionato non è percorribile la strada del me ne vado da solo me ne vado per i fatti miei non ho mai fatti ma l'intento della categoria di cui stiamo parlando oggi è far capire che c'è stato finalmente un movimento unitario ma adesso lo spiegheranno meglio i nostri ospiti molto importante quando sono andate le manifestazioni di Roma di che data era del 18 del 18 di febbraio prima che venisse insediato il Presidente del Consiglio così non hanno neanche potuto sfortunatamente per loro essere ricevuti dal Presidente del Consiglio tra le altre cose infatti forse l'hanno fatto apposta a scegliere lo stesso giorno perché la manifestazione era stata preannunciata tant'è però è importante come diceva il Vice Presidente avere una consapevolezza che si può essere un gruppo da soli non si fa niente questo è un dato di fatto e lei c'ha perfettamente ragione ma ne sono consapevoli anche le categorie vede signor Paolo se io dovessi manifestare senza presenza di organizzazioni sindacali perché non ce la faccio a vivere come pensionato perché vengo ucciso da questa politica i signori commercianti i signori artigiani i signori piccoli industriali devono partecipare come io quando posso se loro fanno una manifestazione pubblica e non ho impegni familiari partecipo ma questo è il nuovo concetto quindi un sistema trasversale perfetto io la ringrazio grazie del suo intervento grazie grazie del suo intervento grazie allora vediamo un po' di rispondere al nostro telespettatore che poi l'ha andato oltre ha detto giusto che manifestate voi però con voi dovrebbero esserci tutti gli altri come dovrebbero esserci per ha fatto l'esempio degli imprenditori quindi una parte tutti trascinati a protestare che riflettendo è corretto come ragionamento perché se voi fosse stati supportati a Roma dai cittadini che poi peraltro tutti condividiamo quello che voi avete fatto tutti perché la vostra protesta è la protesta qualcosa forse e pacifici peraltro perché se poi uno ci va anche agitato qualcosa forse sarebbe servito e invece sono sempre gruppi sparuti giustamente i pensionati vanno i pensionati dello SPCGL vanno quelli della CISL separati da una parte da un'altra non si conclude niente ma al governo sanno che l'italiano è diviso lo sanno perfettamente basta vedere i partiti meno all'interno del PD sanno essere uniti adesso sono poi cottato le quote rosa all'interno del PD stesso scusatemi la battuta però mi viene da ridere e allora vediamo un attimo di dare una risposta al telespettatore allora vediamo intanto quanti eravamo anzi quanti si era sono dati del ministero dell'interno oltre 60.000 chi? oltre 60.000 non solo imprenditori e sottolineerei ma senza demagogia imprenditori familiari perché lì non c'era solamente l'imprenditore c'era l'impresa e c'era l'impresa familiare del commercio dei servizi dell'artigianato e c'erano anche molti molti dipendenti di queste aziende che a volte sono dei collaboratori dei parenti a volte sono naturalmente dei collaboratori che non appartengono alla famiglia e che erano lì perché sentivano insieme ai loro datori di lavoro il peso e la compromissione anche del loro lavoro dovuta al peso fiscale alla burocrazia e c'è stato più di un passaggio dei vari dei presidenti delle categorie dei presidenti nazionali presenti più di un passaggio dedicato giustamente a coloro che si sono suicidati a coloro che non erano in quella piazza quel giorno perché perché non ce l'hanno fatta e c'è stato un grande spirito di solidarietà in quel momento e devo dire che le associazioni di categoria possono essere uno dei punti di riferimento per chi si trova in difficoltà questo lo dico senza paura di tradire emozione perché questo è emerso anche dalle discussioni anche se volete molto emotive ma proprio per questo sincere che emergevano dalla piazza questo sarebbe un passo avanti perché c'è stato un momento in cui lamentavano almeno tanti operatori del settore che le categorie fossero più indietro rispetto alle istanze degli appartenenti invece questo che si facciano portavoci di un carico anche di responsabilità di metterci la faccia è molto importante lo chiedo anche a lei Presidente qui non direi che per la prima volta non c'erano non erano scesi in piazza delle categorie erano scesi in piazza delle persone delle risorse umane del paese che ci mettono del proprio non perché hanno stipendi pagati dal pubblico sto parlando di deputati dei politici certamente non dei funzionari e che si vedono impediti di lavorare e di far lavorare il paese questo era questo era lo spirito e devo dire che è stato capito dai mass media una volta tanto siamo stati presenti molto ma anche su trasmissioni nazionali perché proprio con il Vice Presidente Gallo siamo stati chiamati giù insieme a un altro gruppo di imprenditori in una trasmissione direi due quindi la cosa ha smosso un po' le acque quello che ci preoccupa è la prima risposta che è stata data proprio ieri in un altro ormai dal nuovo Presidente del Consiglio il quale non ha capito bene non ha capito bene che l'associazionismo imprenditoriale come qualsiasi associazionismo peraltro tutelato dalla Costituzione è una forza per il paese non è una trave da abbattere perché vecchia e calvata perché dice non ha capito bene perché lo ha detto lui cioè lui il Presidente del Consiglio ha esordito parlando dell'economia dicendo che bisogna rottamare tutto anche l'associazione di categoria credo che ripeto sta confondendo una trave tarlata che sta da un'altra parte con un asse portante dell'economia del paese è stato ribattuto qualcosa a questo riguardo Vice Presidente beh sì è stato chiaro che noi non ci sentiamo sicuramente come una selezione da rottamare ma tutt'altro ecco no e poi come ha detto in maniera molto molto soft Antonic c'è qualche associazione che fa lobby che ha incanalato le risorse pubbliche in certe aziende eccetera non so se si rivolgeva ad altre associazioni la nostra associazione rappresenta effettivamente gli iscritti ne conosce l'umore noi dirigenti siamo commercianti siamo imprenditori non siamo funzionari quindi all'interno delle associazioni parlo della confcommercio altre associazioni sono strutturate in maniera diversa ecco quindi sarebbe autolesionista colui che va a rappresentare l'associazione e non porta le istanze vere dell'impresa ma vedi il vero problema è un problema culturale no è che l'impresa se lei vede tutte le norme che sono state fatte sono norme per imbrigliare l'impresa parto dal presupposto che l'impresa è un cancro che l'impresa evade che l'impresa è colei e gli metto una serie di norme per poterla controllare ecco che se non cambia questo modo di vedere l'impresa come risorsa come unica realtà che può fare riemergere l'Italia e non andiamo a nessuna parte vediamo anche per esempio noi ci hanno tenuti e ci tengono sotto scacco attraverso il fisco e l'evasione fiscale no il male dell'Italia è l'evasione fiscale dove è concentrata l'evasione fiscale è nella piccola e media impresa ecco lo scontrino ecco poi vediamo poi i dati sono diversi vediamo che abbiamo economia sommersa un 18% economia criminale il 43% ma vedi nell'economia criminale è difficile metterci le mani è rischioso metterci le mani a volte si trovano conivenze con la politica è quello il problema e quindi è più difficile anche se rappresenta il 43% società di capitali che hanno le capacità di eludere di 12% banche multinazionali big company 29% piccoli autonomi e piccole e medie imprese il 4,53% hanno ghettizzato la grande economia che produce nel paese la piccola e media impresa che nell'evasione evade il 4,53% e l'hanno detto il male dell'Italia è questo perché? perché è facile da aggredire perché è facile da colpire perché abbiamo una partita IVA perché abbiamo degli immobili che sono bene strumentali sono sempre cose semplici e i piccoli sono è da semplice colpire ecco che se non si cambia questa filosofia se non si cambia questo modo di vedere l'impresa non sto dicendo che l'evasione non c'è io sto dicendo che ci sono quote di evasione molto più ampie che potrebbero dare soddisfazioni al fisco e all'Italia molto maggiori ma non si ha nessuna energia politica ma non si ha la volontà di colpirle assolutamente questo sto dicendo non che l'evasione non esista io vorrei tornare su questi discorsi perché sono molto importanti andiamo subito rapidissimi in pubblicità vi ricordo che siamo in diretta potete quindi intervenire e mandare i vostri messaggi tra pochissimo siamo insieme